Oramai vi sta invadendo gli schermi, l'estrema tensione di un altro grandissimo nome internazionale della pittura e dell'arte in generale, l'avrete riconosciuto, Hans Hartung, allievo di Kandinsky, che però abbandonò la scuola del Bauhaus perché la riteneva troppo rigida per la sua grande voglia di espressività e di ricerca interiore che aveva. E' di fatti un artista che fin da subito non partì col figurativo, ma anzi fin da subito fece le sue opere non figurative, andando verso territori sempre nuovi e rimase fedele sempre a quelli. Le sue opere sono eccezionali, quotatissime, importanti. Ricordiamo poi negli ultimi anni della sua vita quelle tele gigantesche che lui faceva ad Antibes in quella grande tenuta che si comprò e dove progettò gli studi, gli uffici, la sua casa e quindi con degli spazi enormi che gli diedero modo di esprimersi in quelle tele gigantesche. Però io vorrei che veramente qua la telecamera sostasse con questi segni neri, questo contrasto nero e bianco, le sue caratteristiche opere che sono molto 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 contrastate con pochi colori. Stiamo parlando di un artista che avrebbe anche lui bisogno di un'intera puntata, ma certo non basterebbe assolutamente a definire la grandezza della sua opera. Però in Casa Dazio e Sant'Agostino abbiamo qui questa spettacolare opera di Hans Hartung e qui stiamo parlando veramente di un uomo internazionale in assoluto che ha segnato una svolta nell'arte e che ha ovviamente costituito punto di riferimento per tanti altri che sono venuti dopo di lui. Questa opera è del 1987, si intitola T1987-E5, opera firmata e datata al retro, grande, importante, 65% acrilico su tela. C'è l'autentica anche qui della fondazione Hans Hartung et Anna Eva Bergman su fotografia rilasciata nel ottobre del 2007. È registrata presso l'archivio della fondazione con il numero CTHH91-0. Cosa possiamo dire? Beh, che dal lato umano Hans Hartung intanto ci sta sicuramente molto simpatico. Persona molto fedele alle proprie idee, combatté il nazismo, si arruolò nella legione straniera per sfuggire ovviamente alla persecuzione nazista perché con le opere che lui faceva, faceva parte di quell'arte degenerata che il nazismo assolutamente voleva sradicare dalla faccia della terra. Si arruolò nella legione straniera, venne arrestato, imprigionato una prima volta, venne rilasciato nella Nord Africa francese, di nuovo si riarruolò nella legione straniera, partecipò nel 1944 allo sbarco alleato nel sud della Francia e lì per salvare un commilitone e portarlo, trascinandolo nelle linee amiche, venne ferito gravemente e gli venne amputata una gamba. E questo ovviamente portò a un suo periodo decisamente differente di vita fino a quando poi riprese i pennelli in mano con una nuova ansia costruttiva, con una nuova ansia espressiva. Questo è quello che ho appena detto, come dire, per un punto centrale della vita, dell'aspetto umano, fisico di questo grandissimo artista. Avremo da parlare per ore invece sulla sua arte tutto quello che noi possiamo dire che siamo orgogliosi di avere qui un'opera di Artung del 1987. La stima, 70 mila euro la stima minima, 90 mila euro la stima massima, stiamo parlando di uno dei giganti dell'arte e dei nuovi linguaggi dell'arte moderna, una base d'asta di 48 mila euro che è all'incirca la metà della stima reale massima che noi stiamo proponendo. Allora anche qui di fronte a quest'opera non possiamo rimanere assolutamente neutri, ci dobbiamo schierare, ci schieriamo a favore della grande arte e quindi questa opera vorrei che sentisse l'attenzione di voi grandi collezionisti, di voi grandi amanti di un'arte veramente significativa di tutto il Novecento e di tutti gli anni a seguire perché veramente Hans Artung ha lasciato, Antib nel 1989 ha lasciato la terra ma ha rotto una serie di schemi e ci ha portato un'arte che è assolutamente innovativa, moderna, continuata per i prossimi secoli, non ha tempo l'arte di Hans Artung, un altro grande nome proiettato assolutamente oltre la barriera del tempo. Ripeto, 48 mila euro base d'asta, abbandoniamo Hans Artung e andiamo alla prossima opera.